Tra i grandi trend che condizionano inevitabilmente i mercati perché condizionano l'economia c'è sicuramente l'invecchiamento della popolazione. Allora ci colleghiamo con Matteo David, Branch General Manager Italia di Candrian. Buongiorno e ben arrivato. Buongiorno. E ci colleghiamo con lei non tanto per l'invecchiamento ma in quanto perché in realtà l'invecchiamento della popolazione crea delle opportunità di mercato perché è ovvio che se gli investimenti si orientano verso appunto l'healthcare, verso la farmaceutica, verso tutto quello che in qualche modo interessa l'invecchiamento della popolazione, lì si aprono delle opportunità. È così? Assolutamente glielo confermo. L'invecchiamento della popolazione rimane per quegli investitori di lungo periodo uno dei trend più significativi. Se pensiamo che oggi abbiamo largo circa il 13% della popolazione mondiale che ha più di 60 anni, questo numero aumenterà il 16% da qui a 2030 al 21% a orizzonte 2050. Quindi è una tendenza che è lì, ben identificata e che possiamo cogliere come opportunità di investimento. C'è per il settore dell'healthcare in questo momento un contesto macroeconomico favorevole. La discesa dei tessi di interesse e il rallentamento dell'economia globale dovrebbero in teoria incoraggiare gli investimenti a rivolgersi a quei settori che chiamiamo più difensivi, ovvero che sono quelli meno sensibili agli sconvolgimenti economici e il settore sanitario è uno di questi. E poi c'è un fattore più tecnico, se vogliamo, che si riferisce a quello che è successo recentemente al settore dell'healthcare che è stato un pochino messo in difficoltà dal contesto precedente. Oggi abbiamo delle valutazioni invece che sono un'opportunità interessante. Basta pensare al pre-serning di settore, pari a 15 volte, che è decisamente sotto la media storica del settore, quindi noi ci aspettiamo un rialineamento da questo punto di vista. All'interno del settore sanitario che spazio ha l'oncologia? Perché oggi se pensiamo agli investimenti in ricerca, se pensiamo agli investimenti per curare questa malattia che forse è la prima causa di morte nel mondo, non vorrei sbagliarmi, ma se non è la prima è la seconda. Che tipo di opportunità c'è anche sui mercati finanziari? Sì, confermo quello che ha appena detto. I progetti che sono stati fatti recentemente per quanto riguarda la lotta al cancro rimane comunque un'emergenza molto forte. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che al 40% della popolazione verrà fatta una diagnosi di cancro in qualche momento della propria vita, quindi parliamo di qualcosa di veramente significativo. Si prevede infatti nelle stime che il mercato globale crescerà in media del 14% nel prossimo quinquennio, quindi anche lì un dato abbastanza significativo. Una cosa certa è che l'innovazione scientifica rimane centrale e questa può offrire delle nuove speranze ai pazienti, sia nell'ambito terapeutico ma anche nei percorsi di diagnosi per coce, che è un sentiero molto importante. Possiamo citare ad esempio le terapie cellulari geneticamente modificate, nonché i vaccini che esistono contro il cancro e per quelli più avanzati utilizzano o mettono una risposta immunitaria a disposizione del paziente per combattere la malattia. Un dato importante nel 2023 è la Food and Drug Administration, quindi quell'amministrazione che si occupa di validare farmaci e di renderli disponibili nel mercato ha raggiunto un picco storico ammettendo sul mercato 60 nuovi farmaci per dare un po' un'idea del fermento e della produzione scientifica in questo campo. Poi c'è un altro fenomeno che è quello delle transazioni di fusione e acquisizioni che per quanto riguarda in particolare le piccole e medie aziende è un fenomeno a supporto delle valutazioni e prevediamo che nell'ambito biotecnologico questo avvenga ancora nel 2024. E poi, riferendomi magari a un ultimo elemento di cui si parla moltissimo in questi mesi e che non lascia ovviamente da parte neanche la ricerca scientifica, tutto quello che riguarda le novità tecnologie come in particolare l'intelligenza artificiale avrà sicuramente un ruolo importante nelle prospettive in questo ambito. Grazie a Matteo e David, ricordo Branch General Manager Italia di Candrian.